Spalle al muro, la Juventus si ritrova ancora una volta nel momento di massima difficoltà. Se la vittoria per 2-0 è utile alla classifica del gironcino, il come sia giunta ci fa comprendere che prima di emettere sentenze ci sia da fare i conti con l'ambiente intero. Allegri sceglie ancora una volta il 3-5-2 e Vrà, dopo aver scosso i compagni, fa intendere il motivo per il quale non sia facile spingerlo in panchina. Il gol di Morata timbra il primo tempo, le prestazioni di Hernane e Seguadrado convincono che sia imboccata la strada giusta, Zaza regala la tranquillità a fil di sirena. Morata segna ancora 5 gol in 5 partite, a nessuno era mai riuscito una striscia simile. È un mercoledì da campioni perché vincono anche Manchester City, Manchester United, Real e PSG. Martedì la Roma invece offre un tempo elevato, regala tre gol e spettacolo. Incredibile come la squadra di Garzia si sia consegnata agli avversari subendo subito due reti evitabili e regalando la fascia destra. Dopo il secondo tempo non è piaciuto il terzo, quello degli spogliatoi, il calume della pace servito normalmente ai giornalisti. Ha preso fuoco, l'allenatore ha attaccato la squadra e Florenzi ha semplicemente detto abbiamo preparato male la partita, domanda però chi prepara la partita? Continua la crisi del Chelsea dopo il 2-2 in rimonta con il Newcastle, penultimo in Premier. Il Chelsea ha perso a Oporto, normalmente Arsene Wengerzi sarebbe fatto una grassa risata che questa volta però non è partita. L'Olympia-Cos ne ha segnati tre all'Emirates e l'Arsenal è quarto nel suo girone del mal comune. È meglio non sentire l'audio. Grazie a tutti.